Siamo ora con la dottoressa del campo, dottoressa buongiorno, sicuramente l'esperienza di un paziente di fronte alla malattia molto spesso lo trova da solo, la possibilità invece di un confronto con il proprio medico, con l'equipe dei suoi medici perché poi in realtà si tratta di un gruppo, quanto è importante per poter affrontare anche con più serenità il percorso terapeutico? Come diciamo sempre noi all'Associazione Italiana Malati di Cancro, l'informazione è la prima medicina per il malato oncologico e quindi oggi il malato che tra l'altro spesso si presenta dopo il primo impatto della diagnosi si comincia a presentare oggi al malato in maniera più preparata, in maniera più consapevole perché ovviamente si forma e si cerca di trovare più informazioni possibile ovunque, purtroppo spesso anche magari informazioni non precisissime e non corrette, non validate scientificamente, ecco perché è fondamentale invece l'informazione come momento fondamentale dell'iter terapeutico perché il malato una volta che è consapevole di ciò a cui va incontro, degli effetti collaterali eventuali, dei trattamenti, di tutto ciò che riguarda la qualità di vita che può ovviamente andare a modificarsi nel tempo, una volta che il paziente è debitamente formato di questo diventa sicuramente più consapevole e quindi aderisce meglio al trattamento terapeutico, più partecipe e quindi insomma affronta sicuramente la malattia con grinta maggiore, con consapevolezza maggiore e sicuramente aiuta anche il medico in questo rapporto medico-paziente. Quanto è importante anche che un paziente non abbia pudore, paura quasi di esprimere quelle che possono essere anche dubbi quotidiani sugli effetti collaterali di una terapia perché molto spesso si è un po' intimiditi sicuramente di fronte alla diagnosi ma anche di fronte a esprimere delle perplessità, delle paure, dei dubbi. Fare un po' una breccia in questo muro che finora c'è stato, credo che un incontro come oggi apra un po' le porte a quello che sia la vera comunicazione fra medico e paziente che va molto al di là di diagnosi e terapia. Certo, anche su questo il volontariato oncologico sta facendo molto anche perché appunto come dicevo prima arrivando il paziente più preparato all'incontro con il medico sicuramente ha anche più ben chiaro di fronte a sé quali possono essere poi le problematiche che nella vita incontra, quindi le problematiche nutrizionali, le problematiche sessuali, le problematiche psicologiche. Quindi è fondamentale che il malato non abbia paura ovviamente a esternare anche questi che sono assolutamente parte integrante del viaggio con la malattia e della battaglia contro la malattia. Certo è che ancora lo stigma è forte e ancora si ha paura, tra l'altro anche allontanandosi un momento dal rapporto medico-paziente ma entrando nel mondo del lavoro il malato ha ancora tantissima paura di dire al proprio datore di lavoro io ho il cancro perché ovviamente ha paura di essere isolato, ha paura di essere licenziato come purtroppo accade e quindi insomma c'è ancora un grandissimo stigma. Mentre vedo da una parte sempre più una forte alleanza tra il medico e il paziente vedo ancora un tanto da fare invece nel mondo del lavoro. Bene allora buon lavoro, grazie mille. Anche a voi, grazie.